Allora, parlaci dell'avventura di oggi, Poo. Ah, allora, però non mi è arrivata a ritardo di due ore, il treno era le 6.26, ma lei ha avuto questa brillante idea di arrivare alle 7.42. Lo so perché sono stata otto ore sotto casa l'uomo, speso 100 euro, io ho speso 100 euro per il biglietto da capo. Vabbè, comunque, niente, la gente si guarda male, illusori di riuscire a prendere il treno. E niente, quindi sì, ora dobbiamo prendere il treno per Napoli, con due ore di ritardo, quindi non so se... Non so se... Non provi a prendere. La borsa di merda. Ditele di non fumare, non fumare, non fumare, non fumare! No, che panno di colori. Eh, infatti. Comunque, niente. Freccia rossa! Quello è, che è il nostro treno, bombisoli. Mi ha abbastanza, io ne ho anche. Non sta tornando in griglia. E abbiamo il biglietto alle 10.10. Stiamo a stare al treno, che arriva tra due ore e mezza. Ho tipo due occhiaie che fanno veramente invidia a non so cosa. stanno andando a dormire alle 2 perché stiamo andando a vedere con Gabriele, Romeo e Giulietta al teatro solo che stanno tornando un po' dopo e quindi stavattina non mi sono lasciata mi fanno malissimo gli occhi io non so se vedete mi hanno chiamato Veronica che guardi che guardi vabbè lui è vederciato qui vedi che è un frecciorosso dentro di pene questo è il frecciorosso non sappiamo come cazzo può essere che stiamo da coin spero che ci sono troppe cose fiche e noi non abbiamo abbastanza soldi e quindi penso che ce ne andremo anche solo perfetto anche per stare a dare il treno altro treno dopo 3 ore si scopre che il nostro binaio è l'occhio quando quello uno mi aggiorno dovrebbe essere veramente tranquillo ma giriamo qua il culo però è bella lei proprio ecco vorremmo avere il corso Vittorio Emanuele ah lei è perfuso YouTube lei è ripresa questo scoccio faccio una gara che fa ecco è apposta come l'ho detto il panorama napolitano guarda il panorama napolitano 184 ore no non è vero un'ora non è stato un'ora siamo arrivati a Napoli siamo arrivati non è vero un'ora perché la gente perché mi guarda ma non lo so ma perché si sia non è che sta uccidendo nessuno scusa sto semplicemente facendo un video sono esaltata brava Giovanna brava guarda che bella giornata dicevano che pioveva ciò che c'ha più c'ha più c'ha più attività basta basta ci trasferiamo a Napoli perché non fate trepidati dai perché più veloce c'è un bel coppio grazie 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 perché finisce un'epidenda che da Portevecchi abbiamo messo un'ora a giornare di ero in Rio perché abbiamo girato ecco prendiamo la metro dai abbiamo capito prendiamo la metro e ora in qualche modo e la salvaguardiamo i nostri cordi e certo siamo andati appena in bagno e io sono entrata nel bagno degli uomini e le donne e va bene qui ci sono oltre e qui degli uomini ok qualcuno ci dica dove c'è no dove c'è Napoli ci stiamo perdendo nella stazione non so cosa sarà central Nepal central Nepal bene stiamo per prendere la metro abbiamo trovato dai e ora andiamo in centro stiamo sperando di trovare qualcosa proprio andiamo a cazzo di sì mi sto crepando di fame tra un po' andiamo a mangiare sto letteralmente non so dove consigliateci qualcosa ah no come fare una cozzigliaccia filmito da mezzo dopo io sono un genio e basta oddio regano avete capito come sto ok ok più o meno ce l'abbiamo fatta siamo a piatta camur e stiamo cercando un posto dove andare in realtà andiamo a lungomare scusa non andiamo di qua non andiamo di qua ah 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 la gente continua a guardarmi ma perché mi guardano male ma ci stanno ci stanno ci stanno stiamo andando ci stiamo dirigendo stia taci loro ma perché devi capire se mangia la pittetella che facciamo ora stiamo andando a mangiare perché urlo e ci siamo appena fermati ecco ed io sta strozzando e stiamo ci stiamo dirigendo verso piazza del flepiscito almeno credo ciao ci hanno salutato ciao ci hanno salutato loro siamo in un ristorante no no francesco luca 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 e poi francesco luca 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 tutti voglio venire a napoli voglio venire a napoli voglio venire a napoli chiediamo perché io l'ho visto hai visto cioccolato? più o meno voglio venire che voglio venire a napoli io per questo voglio venire a napoli cioè voi non potete cadere c'è c'è da figlio che devi raccontare certo c'è questo 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 come cazzo si chiama? pizztah 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 l'umore mi ci ha fatto che pizza a forma di guai è troppo dolce poi ci ha detto che siamo belle ha detto si ha detto è bellissimo e ciao ce ne siamo andati da quel ristorante pazzesco si vedi mi è rimorchiato la povera ce l'ha fatta qui ah non è che se uno chiede facebook eh no 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 effettivamente non vuol dire un cazzo ha detto vengo pure a Roma adesso ma che vesti aspetta aspetta quello è lungomare questo qua è il porto scusa e da qualche parte ci dovrebbe essere quella è la galleria si la galleria comunque ciao cameriere carinissimo che ci hai dato tutte queste attenzioni non ti rimetteremo mai più lì hai dato non ti rimetteremo mai più ciao stiamo molto calmi e qui siamo i tuoi scipili che biglietti sti canti che biglietti sti canti ok prendo il mio culo nel fondo ci stanno i costi dove sono i basti ma scusa scusa ma vede la mia vita dammi i biglietti non te li dai biglietti non te li dai biglietti non te li dai biglietti mi sai anche il mio qui c'è il ristorante pazzesco no l'abbiamo passato no non è vero si l'abbiamo passato ok te stiamo andando dove? non mi risponde ragazzi non lo so dove stiamo andando però è sapere un autobus in giro per Napoli allora stiamo andando alla ricerca di una borsa per Lily c'è scritto tipo Napoli dopo ve la faremo vedere la borsa per Lily e io ci siamo andando stiamo andando stiamo andando ok tipo i marocchini come lui guardando io ho preso un fume che a Lily non piace no non è vero però è molto simile a uno tipo di chiara no no della collezione non è vero no perché vedo una volta binario 10 questo è il binario 11 a posto insomma niente è finita questa giornata bella devo dire piena di emozioni senza borse e niente questa è la nostra bellissima carrossa piena di amorevoli ho preso una cover bellissima ho preso una cover bellissima no tu ah si con omer che mangia la mela poi ve la farò vedere giovedere il costume dai dimmi se non è stupendo beh è pazzesco il problema di questo costume è che è un po' piccolo sotto eh beh penso che il video vlog di san unito farò tipo due ragazzi ci può fare e noi dobbiamo fare i primi commenti non ce lo sono mai eeeh sta tutto chiuso sta questa è perché non è la prima classe grandi regionali belli mi piacciono mi piacciono tanto 7 ore di viaggio senza censo niente noi ci vediamo al prossimo viaggio che non ci sarà mai più ok addio ciao ciao